E' possibile aumentare il fattorato e il numero di clienti usando LinkedIn? Mi chiamo Fabio De Vita, sono un consulente di Social Selling e se sei un imprenditore, un manager o un professionista scopriremo insieme come usare il social networking per vendere con LinkedIn. Ciao a tutti da Fabio De Vita e benvenuti in una nuova puntata di Vendere con LinkedIn il podcast per mettere in pratica le migliori strategie di Social Selling a beneficio del tuo business. Ricorda tutti i quattro pilastri di Social Selling che sono Crea un'immagine professionale di te stesso Trova le persone giuste Crea valore per il tuo network con approfondimenti e notizie utili Costruisci solide relazioni Do anche il benvenuto al nostro caro amico Giulio Gaudiano Giulio mi ricevi? Ciao Fabio, si ti ricevo forte e chiaro, ciao a tutti i nostri ascoltatori Bene Giulio, oggi parliamo di come e perché inserire dei progetti Nelle proprie esperienze innovative Con l'obiettivo di mettere in risalto delle nostre attività importanti E anche delle che esistono aziendali di successo Dando credibilità al mio profilo professionale Ma prima di iniziare Hai qualcosa di importante da dirci? Qualcosa che hai rilevato durante questa settimana di attività? Beh, sicuramente sì Ho rilevato che non so più a chi dare i resti Perché sto ricevendo tantissime richieste di connessione Ce ne ho ben 52 in fila da accettare Sto cercando di pubblicare così come mi hai consigliato qualche puntata fa Dei contenuti Ma anche lì tra le relazioni che sto portando avanti E le nuove opportunità di business che si stanno creando Veramente è difficile cercare di organizzare le attività di social selling Per crearle di nuovo business Nel senso che non faccio in tempo a concludere i progetti I lavori che ho avviato nuovi Perché me ne arrivano sempre di altri Quindi senz'altro ho un riscontro molto positivo Sono contento che oggi parliamo dei progetti Perché ce l'avevo un po' qua Incastrata di traverso Questa storia dei progetti In quanto nel passato ho creato mille progetti Collegando le mie attività lavorative Poi li ho allevati tutti quanti Insomma non ho capito bene a che cosa servono questi progetti Bene allora Giulio Oggi vediamo i progetti in un'ottica diversa da solito Li vediamo come progetti che ci possono aiutare a sviluppare business Quindi ad aumentare il nostro fatturato e numero di clienti Come lo vediamo adesso Oggi vediamo come utilizzare i progetti all'interno dell'esperienza lavorativa Per dare valore alla mia attività Con caso 1 progetto aziendale interno Caso 2 progetto aziendale esterno Il caso 3 progetto dedicato ad un servizio Verticale per dei clienti E anche un caso 4 che è una case history di successo per un cliente soddisfatto Tu hai per ogni singolo esempio di quelli che ti ho citato un progetto? Un esempio? Allora ti stavo ascoltando con interesse Proprio perché mi chiedevo quali dei progetti che abbiamo portato noi avanti Possono incastrarsi con questi casi che hai fatto Effettivamente cominciamo dal primo che hai citato Cioè il progetto aziendale interno Sicuramente sì ci sono vari progetti Penso tra tutti a strategia digitale Che è il progetto di comunicazione aziendale Che è nato per utilità interna E poi che è diventato un veicolo molto forte di attenzione Di apertura di nuove collaborazioni E nuove partnership con persone che lavorano nel settore digital Addirittura negli ultimi mesi abbiamo richieste Da parte di aziende che vogliono sponsorizzare il podcast Ed essere presenti su questa realtà Insomma strategia digitale è un progetto interno Portato avanti per noi stessi E da noi stessi a You Media Web Che può essere sicuramente qualcosa da mostrare con orgoglio A chi visita il profilo LinkedIn Per quanto riguarda il caso 2 Il progetto aziendale esterno Cioè il progetto fatto per clienti esterni Ne abbiamo a Valanghe In passato avevo riempito di questi progetti Il mio profilo Poi li ho allevati tutti Però qua vorrei capire con il tuo aiuto Quali anzi sono i progetti da esporre Perché ce ne sarebbero veramente tanti Il caso 3 che hai fatto Cioè il progetto dedicato a un servizio verticale per i clienti Devi meglio spiegarmi che cosa intendi Cioè come si può incastrare Perché io ho sempre utilizzato i progetti Come una sorta di archivio Rispetto alle cose Ai servizi che abbiamo fatto Ma senza concentrarmi Sulla tipologia di servizio Concentrandomi più sul caso concreto Del progetto che è stato portato avanti E il caso 4 Cioè la case history In realtà ecco Per un cliente soddisfatto Pure quello ne abbiamo Ne abbiamo parecchi Non pensavo che i progetti Fossero il luogo Per fare Esporre una case history Ma effettivamente Ora che me lo dici Sembra un luogo Naturalmente deputato a questo Quindi Fammi entrare un pochino meglio Dentro Diciamo il processo decisionale Che ti fa dire Ok voglio prendere Questo servizio Dal paniere Dei servizi che Offro O questo Questo progetto Portato avanti per un cliente Dal mio portfolio E gli voglio dare esposizione Sul LinkedIn A quali Di questi progetti Vale la pena Di dare esposizione Allora Progetto 1 Progetto interno Guardando la tua parte New Media Web Come progetto interno Mi viene in mente Per esempio Guida digitale E quindi il progetto Che stai seguendo Insieme a Saraveltri Ok quindi Non strategia digitale Ma guida digitale Questa piattaforma Di formazione Per Professionisti Del mondo digital La prima Che mi viene in mente In questo caso Sì Sulla parte Progetto interno Mi viene in mente Guida digitale Per il progetto esterno Il primo che mi viene in mente Visto che ha Molta interazione Con altre persone Visto che fa Tutta la parte Di interviste A personaggi Del mondo Del digitale Ci vedo Strategia digitale Anche perché All'interno del progetto Potresti sì A quel punto Inserire Tutte le persone Che ci hanno Che vi hanno Partecipato O sono state Patagoniste Di alcune puntate Interessante Come invece progetto Per Proporre un servizio Verticale So che tu sei Molto bravo Sulla parte Personal branding Per chef Eh sì Hai probabilmente Visto un corso Che ho Creato Sì sono stato invitato Da un mio amico Personal chef In una scuola A un corso Per personal chef Io ho tenuto Lì un seminario Su come utilizzare Gli strumenti E il digital Per fare Personal branding Per personal chef Insomma Dopo questo evento Qui Sono cominciati A arrivare Vari clienti Tutti personal chef Persone legate Al mondo Della cucina E quindi ho Tra le mie consulenze Stranamente Poi voglio dire Ho tanti tipi Diversi professionisti Iscrittori Copywriter Persone dello spettacolo Professionisti Del marketing Insomma Ho una buona fetta Di personal chef Che sono arrivati Tramite questo canale E sì Questo è senz'altro Il discorso Del personal branding Che poi È una cosa ricorrente Ma in particolare Il personal branding Per il settore food È qualcosa Sulla quale va l'esperienza Bene Allora Se noi siamo così bravi Che riusciamo Ad agganciare Ad un progetto Come quello Di personal chef Delle referenze Delle segnalazioni Da parte Di chef Che hanno partecipato A quel progetto Otteniamo Due vantaggi Uno Abbiamo delle referenze Positive Di questi chef Due Chi legge Ed è chef Anche lui Al di là Di leggere La referenza Di un personal chef E quindi Di essere In un qualche modo Attratto Dal tuo profilo Leggendo il progetto Si rende anche conto Di quello Che tu puoi fare Per lui Per cui in realtà Potrebbe scatturire Un'opportunità Di business Ok Ma Dimmi una cosa Ci sono dei limiti Numerici Al numero di collaboratori Che puoi inserire All'interno del progetto Guarda L'hanno inseriti Fino a 50 Però Il numero esatto Di persone Che si possono inserire All'interno del progetto Non lo so Ho un documento Che parla Dei limiti Di linkedin E vado a vedere A verificare Qual è il limite Massimo Di persone Che si possono inserire In un progetto E te lo faccio sapere La prossima puntata Anzi Lo mettiamo su telegram Ah perfetto Allora Cogliamo l'occasione Per ricordare Che esiste Un canale telegram Dedicato a vendere Con linkedin Che si chiama Giusto appunto Vendere con linkedin O per chi ci ascolta E non ha ancora telegram Andate su telegram Punto m e Slash Vendere con linkedin Lì c'è il canale Dove Fabio Durante la settimana Ci dà delle chicchette Per potenziare Il nostro lavoro La nostra strategia Di social selling Perfetto Quindi l'aspetto Sul canale telegram Questa informazione No perché In base a quello Che mi dici Per esempio Per strategia digitale Se dovessi inserire Come contributo Del progetto Quindi come In un certo senso Membri del team Le persone Che ho intervistato Potrebbe In quest'ottica Essere molto utile Perché ho intervistato Centinaia di persone Ognuna di queste persone A suo modo Era influencer Era una persona Di spicco Interessante Con sicuramente Tante altre connessioni E se aggiungo La persona Come facente parte Di questo progetto E la persona Accetta quel progetto E gli dà esposizione Sul sua pagina Sicuro può essere Un modo Per dare visibilità A questi progetti Attraverso questi progetti Alla mia attività Stessa cosa Vale per guida digitale Dove potrebbero essere Inseriti Come partecipanti I docenti Che hanno creato Dei corsi Oltretutto guida digitale Al momento sta facendo Una cosa molto interessante Cioè sta Chiedendo A dei professionisti Di fare Dei corsi Verticali E rilasciarli In maniera totalmente Gratuita Per poter Consentire Alle persone Che vogliono formarsi Su quel tema lì Di andare A seguire Sia il live Facendo domande Sia poter rivedere Le registrazioni video E quindi formarsi Con uno scambio Di informazioni Proprio libero Da chi già fa Quella cosa A chi la vuole imparare Quindi Si potrebbero inserire Questi professionisti All'interno E sarebbe anche Un modo per Mantenere Un legame più forte Una più forte connessione Rispetto al Semplice Averti Aggiunto All'interno Del mio network Cioè Ok All'interno Del mio network Aggiungo Tutte le persone Che penso In qualche modo Possano essere utili Per la mia attività Di social networking Ma poi Se Tra queste persone qui Ce ne sono alcune Che partecipano Come ospite A strategia digitale O che creano Un corso Per guida digitale Potrei Aggiungerli Come membri del team E quindi Mantenere un legame Più forte Questo certamente Ci vorrà un'azione Di rinforzo Al di là Del messaggio Classico Che dà LinkedIn Dove Avvisi Di questa opportunità E anzi Cerchi di coinvolgerli Perché La percezione Di certe persone Di LinkedIn Non è poi Così alta Anche Di professionisti Che lavorano Nel mondo digitale O in altre realtà Per cui Specificare Anche Qual è il vantaggio Da parte sua E sempre Dal mio punto di vista Bene farlo Ok LinkedIn Sicuramente Gli manda Un messaggio Quando io lo inserisco Come membro Del team E poi Seconda domanda Se io inserisco Per esempio Te come membro Del team Tu poi sei in grado Di inserire Altri membri Del team Allora Questa è una bella domanda Devo fare una verifica Perché Non l'ho mai Appurato Francamente È una bella domanda E anche a questa Rispondiamo su Telegram Non so se Una volta che tu Mi hai inserito In un progetto Io posso aggiungere persone O posso solo Passivamente Accettare il progetto Dobbiamo fare una prova Perché Non In questo momento Non Non mi viene in mente Bene Perfetto Un'altra cosa Ti chiedo Se puoi Mi potresti assistere Nella creazione Proprio di un progetto In modo che possiamo Vedere Nel caso concreto Come funziona La creazione di un progetto Attraverso l'interfaccia Di LinkedIn Certamente Giulio Facciamolo insieme Ok Allora Io apro Clicco qua su Aggiungi nuovo progetto Add project E mi apre Il primo campo È name Nome del progetto Che cosa ci devo mettere Qui dentro Io per esempio Vorrei inserire La attività Di Inbound marketing E content marketing Che abbiamo fatto Insieme a un'agenzia Toscana Per Un outlet In Toscana Di proprietà Del gruppo Gucci Il progetto Si chiamava MyMallMag Perché era un magazine Che aveva lo scopo ultimo Di promuovere E far conoscere Questo outlet Che si chiama The Mall Quindi che cosa Ci devo mettere nel nome Il nome del progetto Quindi il nome del magazine MyMallMag Oppure il nome dell'outlet Che volevamo promuovere Outlet The Mall Il nome Della Agenzia Che è fatta Da intermediario Quindi Alpha C Oppure Il nome del cliente finale Il gruppo Gucci SPH Che era quello Che pagava le fatture Ma Un progetto più semplice Non lo potevi scegliere Giulio? No Ne ho preso apposta Uno complesso Perché così Se riusciamo A dirimere La matassa Di questo Sicuramente Non avremo problemi Sugli altri progetti Anche perché Chi ci segue Penso che come me Riscontri questo fenomeno Quando spieghi le cose tu È tutto bello Tutto semplice Tutto lineare Quando poi mettiamo le mani Sul profilo Linkedin È un delirio Quindi Apposta Ho trovato La gatta da pelare In modo che Possiamo chiarirci bene Le idee Bravo Bravo Grazie È per questo Che io faccio più coaching Che formazione Capito? Bene Benissimo Quando uno va ai corsi di formazione Esce Tutto esaltato Poi Va a casa E dice Però lo devo mettere in pratica Su quello che ho fatto io E non ci capisce più una mazza Dai quindi Io metterei Il nome del progetto E poi Visto che tanto Dovamo avere 200 caratteri A disposizione Gli metterei Un contesto Descrittivo In cui Faccio capire Di che cosa si trattava Ok Quindi Diciamo Una descrizione Della tipologia Di servizio offerta Sì Come Progetto Di sviluppo Digitale Testata Digitale Per L'outlet XY Di proprietà Del gruppo Gucci Ok Quindi potrei scrivere Per esempio MyMallMag Spazio Trattino Spazio Content Marketing Per l'outlet DeMall E poi gli metto Fra parentesi Gruppo Gucci SPA Vediamo se me lo prende Me l'ha preso Ok Nella posizione Lavorativa Gli metto Naturalmente Siva Etium Media Web Le date Poi me le vado a ripescare Ora non me le ricordo E nel project URL Quindi nell'indirizzo Posso mettere direttamente L'indirizzo del magazine Che è ancora online Sì Certamente Ok Nei team members Potrò mettere Le persone Sia da parte nostra Che da parte Dell'agenzia intermediaria Che da parte Del cliente finale Hanno partecipato A questo progetto E nella descrizione Che cosa ci scrivo Beh nella descrizione Metterei Contesto generale Del progetto Con un focus Particolare Su quello che hai fatto Tu con la tua agenzia All'interno di quel progetto Ok perfetto Quindi spiego Il servizio E poi spiego In particolare Io di che cosa Mi sono occupato Molto bene Ma scusala Mi fa venire in mente Una cosa In questo senso Potremmo utilizzare I progetti Anche in un certo senso Come delle vetrine Per le nostre landing page Nel senso che Se io offro Il servizio Di creazione Di un progetto Di content marketing E ho un case study Che può essere Questa creazione Del magazine Per il gruppo Gucci Che ha portato Enormi vantaggi In termini di traffico E visibilità In un momento Di crisi Delle ricerche Delle ricerche Del brand A questo Al nostro cliente Potrei anche Avere una landing page Con un video All'interno Oppure avere anche Un solo video Dove Come un'intervista Informale Spiego Di che cosa Si è trattato E do anche Una call to action Nel senso Dico Se vuoi Anche tu Verificare La possibilità Di fare Un progetto In content marketing Con la tua azienda Contattaci A questo indirizzo E potrei Mora Non so se sto usando Troppo Mettere Direttamente Nella url Del progetto Il link Al mio video E inserire Anche il link Al mio video Il link Alla pagina Del servizio La call to action Con il link Alla pagina D'acquisto All'interno Della description Sto usando Troppo Ho viaggiato Oppure Può essere Una strategia interessante Allora Tu sei andato Oltre Però È anche vero Che Quello che hai detto Non è una stupidità Edagine Anzi Lo condivido Al cento per cento E non è Solo perché Nessuno L'abbia fatto Fino a questo momento Non sia una cosa Utile Dal mio punto di vista È molto utile Anche perché Fai diventare L'aria progetti Il tuo portfolio E Un progetto Come l'hai descritto tu Alla fine Parla più Di un allegato Che hai inserito Sotto l'esperienza L'orativa Sì Oltretutto Se io coinvolgo Dei membri Del team E questi Ricevono il messaggio Da linkedin E lo accettano In maniera critica Alla fine Io utilizzo Lo spazio Sulla loro pagina Come link Alla mia landing page Loro però Hanno anche La possibilità Di modificarlo Mi pare Possono modificare La descrizione Non so se Anche La url Del progetto Comunque Hanno la possibilità Di trasformare Quella descrizione Adattarla A quello che hanno fatto Loro Nel progetto In questo caso In ogni modo Avrei visibilità Cioè Utilizzerei Appoggerei Sulle spalle Se ovviamente Lo avvisiamo Prima di Mandargli Voglio inserire Voglio inserire Questo qui Del My World Mag Ho pensato anche Visto che ho fatto Una consulenza Settimana scorsa E ho richiesto Un testimonial Alla fine Della consulenza Da questa persona Molto molto gentile Che ha voluto Lasciarmi il suo feedback Video Voglio provare Anche a inserire Questo progetto Qui di consulenza Con il link Diretto Al video testimonial Che mi ha dato E che ho inserito Anche nella pagina Dove La pagina di vendita Della mia consulenza Perfetto Giulio Se non hai altre domande Chiudiamo la puntata Dimmi No è tutto Benissimo Allora sui progetti Mi sembra che abbiamo Detto tutto Bellissime le tue Lugubrazioni mentali Sei proprio Uno da strategia digitale Quindi Abbiamo lavorato Soda anche questa settimana Ma prima di salutare tutti Voglio ringraziare Odra Via Via Sai per cosa sta Per la provincia O per qualcosa di diverso Odra basta Per Odra virtual assistant Odra è un personaggio Piuttosto noto Devo dire online Perché Oltre a essere Una virtual assistant E oltre a essere Una destratrice canina È anche Parte del team Di Digitalia L'ho sentita Citata da Franco Solerio Digitalia È un podcast Stranoto Per gli amanti Del digitale Digitalia.fm L'ultima volta Un paio di puntate fa Franco Solerio L'ha citata Perché Odra collabora Con loro Per creare delle clip Dalle loro puntate Che diffondono Sui social media Quindi veramente È una persona Che ha Mani un po' Dappertutto Io ho avuto il piacere Di conoscerla E Te la consiglio Ti consiglio Di andarla Ad aggiungere Su Linkedin Perché È una persona Molto molto Particolare Piena di energia Piena di idee Va bene Allora ti dirò Una cosa Con Odra Mi sono messo In contatto Via Linkedin Perché mi ha chiesto Una connessione E dopo Ho avuto Una conversazione Con lei Su Facebook E ho deciso Proprio per la sua Vivacità Di offrire Un check up Gratuito Del profilo Penso un po' Fantastico Vedi Quindi ti sei anticipato E ha lasciato Una recensione Mi dicevi Ha lasciato Una recensione Allora Non te lo puoi perdere Se vuoi utilizzare Bene Linkedin 5 stellette Fabio De Vito È una garanzia Se si vuole imparare Ad usare Linkedin Per bene Questo podcast È eccellente Fatto bene E spiegato In maniera semplice Ma dettagliata Bravo Fabio E attendo Le puntate successive Con ansia Ciao PS Bravo anche a Giulio E che si impegna Mettendo in pratica Tutti i consigli Odra Che dire Sei fantastica Ecco Odra Grazie mille Grazie anche di esserti Ricordata Dal povero sottoscritto Allora Sono pronto Per la mia Operazione Boicottaggio Di vendere Con Linkedin Ragazzi Non andate Non andate su iTunes A cercare Vendere con Linkedin Non scrivete La vostra recensione Non lasciate La vostra valutazione Con le 5 stellette Se proprio dovete Lasciare una valutazione Mettete una sola stelletta Per affossare Il podcast Perché Vendere con Linkedin È finito In Prima Posizione Tra gli episodi Più ascoltati Dell'intero iTunes Sta sempre lì sopra Tra i nuovi Degni di noto Sulla pagina Generale Dei podcast Mentre Il mio podcast Praticamente è sparito Strategia digitale Lo trovi solo Nella categoria affari E soprattutto Sta sempre Davanti a me Nella categoria affari Allora ragazzi Ma voi siete fissati Con Linkedin Smettete di pensare A Linkedin Venite ad ascoltare Strategia digitale Fatevi delle recensioni negative Non fate la recensione A Linkedin Altrimenti qua Fabio De Vida Si monta la testa Ha più recensioni lui In pochi mesi Che il sottoscritto In anni di podcasting Fabio ma che farai Dentro questi podcast Ma sei appena raggiunto Anzi Superato Le 100 recensioni Volevo farla io La centesima Non sono riuscito Bene Bene Allora Fabio No a parte gli scherzi Ragazzi Veramente L'esplosione Di questo podcast Mi ha Mi ha lasciato Stupito Mi riempie di contentezza E anche Sono sempre contento Di fare I complimenti A Fabio Per il suo ottimo lavoro Vi ricordo Che sul canale Telegram Telegram.me Slash Vendere con Linkedin Potete Seguire Quello che succede Dietro le quinte Del podcast Quindi Seguire da una settimana All'altra Che cosa succede Perché anche Per noi Le idee nuove Su quello di cui parlare Durante le puntate Scaturiscono Non c'è nulla di scritto Non c'è un copione Già pronto Scaturiscono Dalla nostra attività Da quello che accade In più Vi segnalo Anche l'indirizzo Vendere con Linkedin Chiocciola Youmediaweb.com Che è l'email Dedicata Alla quale Fabio Vi risponde Sicuramente Bene ragazzi Non ci resta che Dirvi Mettetevi sotto A lavorare Questa settimana E ci sentiamo Come sempre Giovedì alle 12 Con Vendere con Linkedin Ciao Giulio Ciao Fabio Ciao a tutti Ciao a tutti È possibile Aumentare il fattorato E il numero di clienti Usando Linkedin Mi chiamo Fabio De Vita Sono un consulente Di social selling E se sei un imprenditore Un manager Un professionista Scopriremo insieme Come usare Il social networking Per vendere Con Linkedin Per vendere 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 Tro statutory Motivata Presenni